Siamo al 41esimo piano vicino a Remy Square a Shanghai e proviamo a analizzare la città, i gattacieli e il traffico. Sotto di noi un'arteria stradeale nel centro città. Sotto di Sotto di Sotto di Sotto di Sotto. Questo è un ospedale militare in pieno centro, e qui sotto vediamo incessante. E' una specie di tangenziale che attraversa il centro città. Chiang hai 17 milioni di abitanti. chilometri di autostrada interna alla città infinità di torri, cartacelli, siamo al 41esimo piano, guardate attorno quanti cartacelli di questa altezza ci sono grazie